Parte piano Samba del Sile, come vedete, rinuncia praticamente al lancio veloce, anche Sansone Femme perde l'ala, ma questa non è una novità. Partiti e dal centro del cuneo il Piragna nazionale porta al comando Sognami, il debuttante di Giovanni Ruggi. In seconda posizione Santi Cirifaco lascia all'esterno il 3 di Simona Alon, quindi Sansone Femme e Samba del Sile. Dopo 250 metri Simona Alon, rimasta scoperta, prova ad andare su Sognami in terza posizione, secondo lungo i paletti, rimane Santi Cirifaco a precedere Samba del Sile e a chiudere il quintetto Sansone Femme, che però sbaglia dopo 400 metri. 36, primo quarto, discreto per la categoria, cavalli che vengono davanti alle tribune con due coppie che guidano la corsa. La prima quella composta da Sognami e Simona Alon, l'altra Santi Cirifaco e Samba del Sile, all'inseguimento il falloso dopo 400 metri Sansone Femme. 900 metri alla conclusione, curva del caffè appena passata, i cavalli che vanno a completare il mezzo miglio iniziale. Sognami, lo passa, in 1-1-8, va a affrontare tra qualche istante la retta di fronte all'arrivo in vantaggio, sempre pedinato da San Girifaco che ha all'esterno a Simona Alon che si traccina a Samba del Sile. Il ritmo non è stratosferico e recupera anche Sansone Femme. chilometro in 17,7, Sognami in vantaggio con Simona Alon che si però profila in vantaggio seguito da Samba del Sile, mentre Santi Cirifaco alla ricerca di un valco che per il momento non si schiude. Massimo Costato sta fermando per cercare di trovare la destra libera, l'operazione che riesce e poi Sansone ferme. E' passato a Simona Alon, battutissimo Sognami, Samba del Sile in seconda posizione, Santi Cirifaco che ha trovato il valco e prova ad fare l'arrivo. Quindi Sansone Femme che ha ben recuperato, Simona in vantaggio, Samba del Sile che ci prova e ci crede, così come Santi Cirifaco arriva a 3. Simone ancora in vantaggio, in mezzo alla pista Santi Cirifaco e nel finale Santi Cirifaco stampa Simona Alon, poi Samba del Sile, lo sfortunato Sansone ferme e in quinta posizione, Sognami. 1-3-5-7-4 sul traguardo, 1-3-5 la trio, 1-17 inetti per il vincitore Santi Cirifaco, ripeto, 1-3-5-7-4 sul traguardo i premiati. Rivediamo il tutto, Simona Alon tenta di difendersi, ha respinto Samba del Sile, ma a centropista, uno scatenato a Massimiliano Castaldo, sprinta con Santi Cirifaco e dopo aver trovato il valco all'apice della piegata finale, fulmina Simona Alon che corre comunque bene. 1-3-5, si finisce nel segno di Massimo Castaldo e per questa sera da Vilanova a Dalbenga è veramente tutto. Buon proseguimento di serata da Giorgio Di Martino per tutti quanti voi, noi ci risentiremo. Fra sette giorni ci sarà la corsa triste.